Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Quivit, questo velocissimo gioco in questa piccola scatolina colorata che vedete qui davanti, gioco della Peter's and Games che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione ed è sempre un grandissimo onore e un piacere poter collaborare con voi. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Quivit, nell'edizione che vedete qui davanti della Peter's and Games, è un velocissimo gioco dove dovremo andare a creare un quadrato con delle carte colorate in una griglia di 5x5 e dove ciascuna carta o tile di questa piccola griglia che andremo a creare avrà sempre 4 colori nei rispettivi angoli e lo scopo del gioco, come vi spiego a breve, è quello semplicemente di mirare a fare il punteggio cercando, ma in misura forse minimale, di andare a sabotare le azioni dell'altro giocatore, quindi dell'avversario, ma soprattutto andare a fare una sequenza di colori tutti quanti uniti per fare il miglior punteggio e vincere la partita. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing, confezione del gioco, veramente piccolissima, guardate rispetto alla mano gioco tranquillamente tascabile e portabile ovunque, come vedete ci sono questi piccoli tile, queste carte dove sopra ci sono sempre agli angoli 4 colori che voi dovete andare a combinare per formare, ve l'ho detto, una specie di mosaico e collegare tutti quanti i colori. Apriamo. All'interno abbiamo tutte quante le carte e i tile da usare e poi ci sono anche il double rotate che invece di girarle di 90 gradi, come vi spiegherò successivamente, le potete invece girare di 180, però sono tutte quante regole aggiuntive che potete usare come no, in una partita normale non servono. Comunque tutte le carte hanno sempre in cima un punteggio e da quest'altra parte invece abbiamo altre carte come queste che vedete, potete girarle come vi pare, non esiste un lato giusto dove metterlo, poi il numero può anche essere messo a testa all'ingiù, quello non è assolutamente un problema e poi c'è la clessidra da usare solo, solo, solo esclusivamente come regola opzionale da 60 secondi, quindi se volete mettere un pochino di furia al vostro avversario potete utilizzarla. Il regolamento che è una cosa veramente semplicissima, sono pochissime pagine, tra l'altro piene di immagini quindi scritte anche grandi e veloci e se volete mettere un pochino di casualità al gioco c'è un'altra regola opzionale che è il dado evento che quando lo tirate magari vi dice no, in questo turno puoi collegare soltanto su blu, no, in questo turno puoi collegare soltanto sul verde, sul colore verde, quindi anche se riesci a collegare sul rosso non va bene e non guadagni punti. Vi faccio vedere un po' come funziona. Se vedete una codina nera che gira è perché c'è la gattina, quella piccolina Morgana che non vuole capire che siamo qui a fare video, non gli interessa classico dei gatti e il gioco ragazzi Quivit è veramente semplicissimo e c'è pochissimo da spiegare come detto poc'anzi si crea questa griglia, questo quadrato di 5x5 dove inizialmente vengono messe coperte e poi scoperte quando inizia la partita tutte quante queste carte colorate dove nei quattro angoli hanno quattro colori differenti. Ciascun giocatore quando tocca a lui e si va in senso orario deve semplicemente girarne uno di 90 gradi per trovare tutta quanta una combinazione. Ovviamente quando si crea una combinazione o una linea di colori che vanno a connettere, ve l'ho detto, un quadrante ad un altro alla fine lui andrà a contare tutto quanto il punteggio e verranno tolti dal tavolo. Magari una carta a punteggio 1, una carta se la colleghi a punteggio 2, magari un'altra a punteggio 3. quindi basta vedere la linea di collegamento con tutti i colori, magari verde collega col verde, rosso collega col rosso poi magari rosso in basso collega con un altro rosso, poi magari a est invece collega con un altro con giallo fino a che si riescano a fare tutta una linea anche che si dipane in più strade però comunque di caselline colorate si guadagna il punteggio. Le tessere vengono tolte, al momento che si guadagna il punteggio vengono tolte e prima che tocchi all'altro giocatore se ne pescano altri dal mazzo in comune, si mettono coperte casualmente non vi preoccupate se le mettete a testa all'ingiù anche perché è il senso del gioco si vanno a rivelare e tocca al giocatore successivo. Il gioco ragazzi è tutto qui ci sono delle regole aggiuntive che consentono di usare delle carte colore o per meglio dire multicolore che sono regole aggiuntive ma potete tranquillamente giocare anche senza è per dare un po' quel tocco di imprevisto di casualità dell'evento alle vostre partite o potete giocare anche con la clessidra clessidra che dura un minuto quindi il giocatore ha un minuto per fare la sua mossa e vedere un po' come collegarle tutte quante comunque il funzionamento del gioco è quello che ne potete girare di 90 gradi una e poi vedere insomma come l'avete collegate ma occhio perché anche se non andate, la dovete girare comunque non potete astenervi da farlo però se la girate in un modo che non guadagnate punti ma vi cercate di fare una tattica per il turno dopo ma il vostro avversario vi rema contro perché come gliel'avete girata gli date la possibilità di fare a lui magari un punteggio buono o di fare una colonna di colori, una linea di colori a quel punto vi siete rovinati con le vostre mani comunque è un gioco molto semplice ma che ha anche la sua buona dose di tattica e strategia in conclusione questo Quivit è un gioco assolutamente per tutti poi guardate la scatolina, è il classico gioco tascabile che portate ovunque e come riporta la scatola 15-30 minuti di partita al massimo ma veramente 20 per quanto è veloce quindi è il classico gioco come dico io che va perfetto per tutto anche per uno spareggio o sicuramente portata a casa di amici non troppo avvezzi a giochi magari da tavolo un po' troppo non complicati ma un po' troppo complessi con troppe regole questo è il classico gioco un po' alla Dixit che dove porti porti fai divertire insomma si passa una serata magari prima di cena dopo cena magari per fare un'oretta prima ognuno di tornare a casa sua o andare a letto insomma ci fai una partita volentieri è bellino al suo perché poi è bellino vedere tutte queste cose colorate ti mette un pochino in moto alla fin fine la fantasia e soprattutto un po' di strategia ce la devi mettere assolutamente quindi per me è un titolo molto interessante è un titolo molto semplice non va aspettare chissà cosa e io ringrazio ancora una volta la Peterson Games per averci offerto questa copia per la recensione se lo volete ordinare primo link in descrizione e come vedete in tutti i video la sua impressione dalla giocolibreria Semola nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato se lo trovate in lista ma è finito oppure proprio non ce l'ha in lista scrivete a Corrado il proprietario della giocolibreria Semola mandateli un messaggio al supporto una mail privata e ditegli arrivo dal canale di Coridan si potrebbe avere questo gioco lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato usate sempre il codice sconto Coridan7 per avere uno sconto e un discount pari al 7% e per spese superiori ai 79 euro in tutta Europa in 48 ore non si pagano le spese postali quindi che voi dobbiate ordinare un colore, un gioco da tavolo o magari una miniatura di Warhammer usate sempre il codice sconto Coridan7 mi raccomando fatemi sapere un po' cosa ne pensate e Morgana che nel frattempo mi ricorda che ha fame ciao ragazzi alla prossima ciao